Oggi abbiamo vissuto una bellissima giornata su un tema molto importante, il tema dell'amministrazione aperta. È la terza edizione in cui si apre una settimana dell'amministrazione aperta in tutto il territorio nazionale. È stata un'occasione per dire in maniera importante una cosa. Andiamo verso un mondo in cui l'amministrazione non vuole più essere, diciamo così, guardare a se stessa, ma vuole essere un driver molto importante per la crescita del Paese. Quindi si rivolge ai cittadini, alle imprese e alle altre, diciamo così, amministrazioni territoriali affinché ci sia veramente uno sviluppo e un'apertura verso i temi dell'amministrazione che non sia più quindi un castello di norme, di codici, di commi, ma sia effettivamente uno strumento di crescita per tutto il Paese.